Buona lastima, perché era per ottenere una buona posizione finale. La strategia è stata perfetta, abbiamo deciso prima di partire di fare un pit stop, siamo stati fuori con le gomme da asciutto quando pioveva, siamo stati perfetti, veramente una gara perfetta, fortissima, ma è andata male. Quando dovessi ritirarti dalla carriera sentiste una sensazione molto difficile. Ho finito di piangere dieci minuti fa, perché per me è una grande perdita.